Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consiglio d'appuntamento con il TG10. L'apertura del telegiornale anche oggi è dedicata all'omicidio avvenuto a Gela nella piazza centrale della città giovedì intorno alle 19.45. Orario in cui le vie del centro brulicavano di gente. Vediamo. Non viene tralasciata alcuna pista, si scava nel passato della vittima sulle sue frequentazioni. I carabinieri di Gela, coordinati dalla Procura della Repubblica, indagano ad ampio raggio sull'efferato delitto compiuto giovedì sera in pieno centro storico, che è costato la vita a Domenico Mimmo Sequino, 56 anni, tassista, sposato e padre di tre figli. Le modalità dell'omicidio non lasciano spazio a nessuna interpretazione, un'esecuzione di stile mafioso tra la gente, in un orario in cui il centralissimo corso Vittorio Emanuele, dinanzi al sagrato della chiesa madre, pullula di gente. Cinque colpi di pistola calibro 7.65 sparati in successione che hanno raggiunto Sequino in diverse parti del corpo. E poi la fuga dei due killer in sella ad un motorino con il quale avevano raggiunto la zona teatro del gravissimo fatto di sangue. I due sicari hanno agito indossando caschi integrali e conoscevano le abitudini della vittima. Sapevano che a quell'ora, erano le 19.40, avrebbero trovato il tassista in quel posto a pochi passi dal presepe itinerante. Un delitto studiato nei minimi particolari. I killer sapevano pure che sul corso è attiva la zona a traffico limitato e che nessun veicolo può circolare. Dunque, per non dare alcun sospetto, hanno percorso altre strade limitrofe alla chiesa madre per poi raggiungere il vasto marciapiede dinanzi alla cattedrale, sparare e rifare lo stesso percorso al contrario. Tutto in pochissimi secondi. Ma la zona in cui è stato ammazzato Domenico Sequino è visionata dalle telecamere dei negozi del corso. Gli inquirenti hanno requisito numerose immagini e le stanno analizzando con le dovute attenzioni. Sono stati inoltre ascoltati alcuni frequentatori assidui della piazza in cui si è verificato l'agguato al fine di raccogliere più elementi possibili. Non è escluse inoltre che il motorino utilizzato dai due killer sia stato rubato qualche ora prima dell'agguato. Avevano realizzato due discariche abusive differenziate tra le colture di carciofi e pomodori nelle quali venivano stoccati e smaltiti rifiuti speciali e pericolosi. Cinque le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Gela agli ordini del Capitano Massimo De Vito. Le zone, 3.500 metri quadrati complessivi in cui venivano accumulati e divisi per categorie rifiuti sono state individuate nelle contrade Rinazzi e Cocuzza. Rinvenuti scarti di ogni genere, vetro, alluminio, imbarcazioni in legno di smesse, ethernet, plastica, grandi quantità di rifiuti venivano dati alle fiamme. L'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica prosegue intensamente per accertare eventuali responsabilità di altri soggetti. Alle porte di questo Natale amaro per tantissimi ex lavoratori gelesi si prega affinché si possano raggiungere soluzioni per risolvere la grave vertenza Gela. Ieri Santa Messa all'ex Asi. Vediamo. È stata celebrata dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana una Santa Messa per pregare affinché la vertenza Gela possa trovare soluzioni che arginano l'emergenza di questo dramma. Erano state le stesse sigle sindacali CGL Cislewil a chiedere di poter dedicare la celebrazione ai lavoratori. Vorrei veramente far sentire ai nostri lavoratori che in questo momento vivono un momento difficile d'altra parte spero che sia soltanto un momento la vicinanza certo mia, della Chiesa ma soprattutto del Signore. Il Signore non ha mai dimenticato nessuno anzi al contrario egli è sempre ed è sempre stato e lo sarà sempre vicino alle persone bisognose vicino alle persone che in questo momento mostrano una condizione di angoscia e voi potete capire quanto è difficile vivere senza lavoro e quindi quanto possa essere angosciante il fatto di non avere il lavoro. Stamattina abbiamo fatto un incontro in prefettura assieme con il Vescovo e assieme con la delegazione dei lavoratori e questo è un momento importante per dimostrare il fatto che la Chiesa ma anche tutto il clero è molto vicino ai lavoratori. La Chiesa soprattutto in questi giorni sta dimostrando con la concretezza che è necessaria nei casi di isperazione e di tensione sociale la vicinanza umana ma anche pratica e credo che questo sia il più bel messaggio che possa arrivare qualche giorno prima del periodo di un'atterizio e che deve eseguire con lo stesso profilo che è quello della concretezza anche dopo questa breve pausa in atrizia. Il sindacato ha fortemente voluto questo incontro, ce ne saranno degli altri perché noi siamo convinti che una delle cose che è mancata a Gela come in tante altre parti del Sud è la coesione tra i corpi sociali e invece noi la dobbiamo cercare tra laici, cattolici, tra il mondo involontariato e tra il mondo politico. Noi cerchiamo risposte, altre dobbiamo dare noi e siamo qui per metterci in gioco e soprattutto per dare segnali di speranza. La grande organizzazione nazionale di Teleton è approdata anche a Gela a sostenere l'importantissimo progetto di ricerca scientifica anche l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo, vediamo. La maratona Teleton arriva nelle scuole ieri ad abbracciare il grande progetto nazionale di solidarietà è stato l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Sturzo di Gela grande partecipazione di studenti e docenti il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Raccogliere fonte per la Teleton è molto importante perché sappiamo che la Teleton combatte le malattie genetiche e quindi è una tematica importante per la salute. I nostri ragazzi sono molto sensibili a queste tematiche e hanno raccolto delle somme che devolveremo alla Teleton. e sicuramente con ciò manifestano che cosa? Il senso di solidarietà e il senso del dar senso a importanza a queste tematiche. Sappiamo che la Teleton appunto si occupa di questo, si occupa di cercare di combattere e sconviggere queste malattie genetiche riguardo la distrofia muscolare, la sclerose e tantissime altre malattie. Quindi la ricerca è un qualcosa di importante e il fatto che i ragazzi manifestano questa solidarietà e si comportano in questo modo, nel senso che raccolgono fonti per è qualcosa di molto importante per gli educatori e per la scuola. Per cui ringrazio i ragazzi e gli insegnanti che sono riusciti a realizzare questa giornata. Tempo di Natale, tempo di solidarietà. Le scuole si mobilitano con iniziative a favore dei soggetti più indigenti. In un clima di festa arrivano messaggi profondi. Siamo andati alla scuola Enrico Solito, vediamo. Clima natalizio e sentimenti di solidarietà aleggiano in questi giorni preludio del Natale in tutte le scuole di Gela. Grande organizzazione anche alla scuola Enrico Solito nella quale il pensiero è andato alle famiglie meno abbienti. Che festa dunque sia, ma con contenuti profondi. Questa è diventata ormai una tradizione quasi per la scuola Enrico Solito perché già l'anno scorso abbiamo fatto una giornata della solidarietà che abbiamo festeggiato insieme a tutti i bambini, i genitori e gli insegnanti e tutto quello che avevamo raccolto l'abbiamo devoluto nell'anno passato alle varie parrocchie gelesi. Quest'anno, proprio all'insegna della tradizione, invece ciò che si raccoglierà, i fondi, i piccoli fondi che raccoglieremo da un versante andranno verso la casa della misericordia e dall'altra invece all'unicef. In pratica tutto quello che qui vediamo è un lavoro condiviso grazie ai genitori, lo devo sempre dire, perché con l'aiuto dei genitori e i bambini sono stati realizzati dei piccoli lavoretti, hanno fatto un lavoro eccezionale. Chiaramente questo verrà devoluto all'unicef. Però io vorrei dire una cosa, la scuola, questo progetto della solidarietà, non è solo un momento dell'attività scolastica, ma rientra nel progetto di cittadinanza attiva, un progetto che noi abbiamo avviato dall'inizio dell'anno, partendo dall'idea di fare delle attività in modo tale che i bambini possano stare prima bene con loro stessi e poi con gli altri. Sarà inaugurata oggi nei locali del Palazzo di Città la seconda mostra di presepi realizzata dalle scuole locali promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. L'iniziativa, il cui ingresso sarà completamente gratuito, manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva, che sta alla base del progetto turistico della Proloco. I presepi come simbolo di rinascita, verità e giustizia, frutto del lavoro dei ragazzi delle scuole, dell'artigianato artistico, della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 e 30. Durante l'inaugurazione di oggi sono previsti intrattenimento musicale con la cantante Anna Salsetta e degustazioni dolci e salate. Ieri sulla nostra emittente è stata trasmessa l'ultima puntata del 2015 della fortunata trasmissione ideata e condotta dal collega Franco Gallo. Vediamo. Ultima puntata del 2015 ieri sera per Agorà. Il fortunato rotocalco settimanale della nostra emittente ha fatto il punto dell'anno che sta per concludersi a Gela. Un anno costellato da diverse novità per la città, dalla svolta epocale della guida politica Palazzo di Città, che dopo 22 anni consecutivi è passata dal centro-sinistra ai 5 Stelle, a quella industriale con la chiusura dopo oltre un cinquantennio della raffinazione del petrolio che ha portato come prima conseguenza una disoccupazione dilagante. È stato anche l'anno in cui i gelesi hanno confermato di voler lasciare la vecchia collocazione geografica con l'oramai ex provincia di Caltanissetta per passare nell'area metropolitana di Catania e l'anno in cui Caltacqua ha confermato e ha continuato a vessare i gelesi con una distribuzione idrica da terzo mondo. Insomma, un 2015 che se ne sta andando senza grossi rimpianti e si spera in un 2016 di rinascita e di crescita della speranza. A dibattere tutto questo in studio sono stati assieme al conduttore il sindaco di Gela, Domenico Messinese, e visto che si parlava di bilancio di un anno, con il primo cittadino e stato ospite di Agora anche l'assessore comunale al bilancio, Fabrizio Morello. Inoltre, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Canale 10 ha ospitato la storica responsabile dell'Associazione Arci le Nuvole Luciana Carfì ed infine il giornalista Fabrizio Parisi. Non è mancata poi la scheda firmata da Giulio Cordaro dal titolo Fuori dal Coro che è stata corredata da una colonna sonora in tema con l'argomento della puntata di Agora ossia il brano di Lucio Dalla l'anno che verrà. Chi volesse rivedere questa ultima puntata del 2015 di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10 oppure sui nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora si prende ora una pausa per tornare in diretta venerdì 8 gennaio 2016 in prima serata con nuovi ospiti ed argomenti che riguardano come sempre Gela ed i Gelesi. La redazione di Agora augura ai suoi affezionati telespettatori un sereno Natale ed un felice fine ed inizio anno. Infinitamente donna è la denominazione di una mostra che sarà allestita al Museo archeologico regionale di Gela su iniziativa del Soroptimist Club di Gela preseduto da Maria Grazia Falconeri e curata dall'archeologo Angelo Mondo. Il taglio del nastro è previsto per martedì 22 dicembre prossimo alle ore 18. Saranno esposti i reperti archeologici esclusivamente al femminile. Monili e statue catalogate dall'archeologo gelese che racconteranno la condizione femminile del mondo greco. E ne dicole il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Fine anno, tempo di bilanci. Il 2015 per il Corriere di Gela è stato un anno orribile. La chiusura della fabbrica passata quasi inosservata ha messo in ginocchio la città. Ma non c'è soltanto questo. Il servizio di apertura del giornale e del direttore Rocco Cerro. In prima pagina una riflessione di Filippo Guzzardi sul Natale che si apprestano a vivere le famiglie degli operai dell'indotto rimasti senza lavoro e che lottano nei presidi in prossimità della fabbrica ormai chiusa. Anche Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto affronta la questione della crisi dell'indotto e ironizza sulla singolare protesta dei forconi che hanno depositato mucchi di letame davanti al palazzo che ospita il Parlamento siciliano. Il giornale riferisce anche sull'ultimo fatto di sangue avvenuto giovedì le cui dinamiche hanno riportato la città alle angosce degli anni bui della guerra di mafia. All'interno altri servizi di attualità e cultura di Lucrezia Ferro Cinzia Sciagura Cannello Lombardo Gianni Virgadaula Nuccio Mulè e Marco Didio e infine lo sport con i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio di eccellenza e promozione. Chiude il giornale la pagina degli annunci economici. Il Corriere di Gelen con comitanza delle festività natalizie di fine anno non uscirà nelle prossime due settimane. Il giornale tornerà quindi in edicola sabato 9 gennaio e augura naturalmente a tutti i suoi lettori buone feste. Noi ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale nuova sede per il coordinamento delle opere ieri il taglio del nastro c'eravamo anche noi vediamo. È stata inaugurata la nuova sede del coordinamento delle opere nuovo centro di incontro e punto di riferimento per le associazioni e le imprese che compongono lo stesso coordinamento ospiterà le attività sociali tra cui quelle svolte da oltre il muro Onlus. Nasce il coordinamento delle opere una sede che serve ad ospitare tutte le attività delle opere del coordinamento è un momento importante per noi perché a me personalmente offre la possibilità di continuare il percorso di formazione con i ragazzi in queste strutture certamente che sono fuori dalle mura parrocchiali perché la natura del coordinamento è quella di collocarsi su un territorio cittadino e non esclusivamente parrocchiale fuori dalle mura di una parrocchia certamente potrò maggiormente agire con i ragazzi e con loro formare la generazione del futuro e questo è per me un grande segno di responsabilità che la Chiesa mi affida e che consapevolmente io assumo e auspico che tutti i ragazzi della nostra città di Gela gli amici dei nostri ragazzi e tutte le famiglie che ogni lunedì si incontreranno possano vedere in questa sede un punto di incontro e di coinvolgimento è una gioia per me una gioia per il Vescovo una gioia per la Chiesa ma soprattutto penso che sia una punta di orgoglio per la città di Gela questa inaugurazione rappresenta il primo vero passo delle attività del coordinamento delle opere è la sede operativa del coordinamento ma delle stesse associazioni che lo compongono si tratta di un ambiente dove andremo a sviluppare progetti di formazione progetti sociali progetti culturali la nostra città richiede ambienti di questo genere avere una sede aperta 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana per far crescere i nostri ragazzi più giovani ma anche le famiglie che ci aiutano e ci supportano quotidianamente è un traguardo ma è anche un punto di inizio per quanto riguarda i progetti futuri del coordinamento stesso credo che siano di quelle categorie che dovremmo lentamente ma progressivamente assimilare e maturare perché se noi non puntiamo al coordinamento qui come abbiamo sentito si tratta di coordinamento di opere allora vorrei anche evidenziare l'aspetto plurale quindi non solo un coordinamento ma di opere quindi significa che ci sono dentro tante attività che tenteranno alla sinergia e questo evidentemente permetterà un arricchimento direi notevole si rinnova l'appuntamento annuale con il gran concerto di Natale il mondo che vorrei su iniziativa della FARC coordinata da Angela Lobello in collaborazione con i giovani dell'oratorio salesiano è un'iniziativa culturale di socializzazione dedicata ai malati oncologici alle loro famiglie e alla cittadinanza tutta per vivere insieme la magia del Natale l'appuntamento è fissato per il 21 dicembre alle ore 18 al Teatro Eschilo per un concerto all'insegna della solidarietà e della speranza messaggi che l'associazione è impegnata a diffondere nell'agire quotidiano a favore dei pazienti oncologici in cura all'ospedale Vittorio Emanuele e delle loro famiglie Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Divina Misericordia lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilarie anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali seconda mostra di presepi presepi in comune realizzata dalle scuole locali promossa dall'associazione turistica Proloco Gela si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio a Palazzo di Città previsti intrattenimento e degustazioni l'ingresso è libero dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 20 e 30 l'inaugurazione è prevista per sabato 19 dicembre alle ore 18 continuano gli appuntamenti col grande jazz al teatro comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato l'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni 0933-911-892 oppure 345-5880-580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale mostra dei presepi vita di Gesù di Francesco Bonvissuto fino al 10 gennaio pattinaggio su ghiaccio eventi mostra di presepi l'albero della vita nel piazzare della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita per esempi artistici tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo 2016 dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare lo hanno comunicato i padri agostiniani camminata per la pace in memoria dei gelesi morti per patologie tumorali e l'iniziativa promossa dal comitato camminatori gelesi appassionati di uno sport amatoriale a metà tra la podistica e la camminata nato negli Stati Uniti nella metà degli anni 90 e arrivato anche in Italia l'appuntamento è fissato per domani alle 9 in piazza della Pace al lungomare con destinazione parco di Montelungo bene fine c'è l'informazione cinematografica e Babbo Natale non viene da nord il nuovo film in programmazione al cineteatro antitodo di Macchitella vi ricordiamo gli orari di rotazione della pellicola 17 e 30 19 e 30 21 e 30 e per il teatro lunedì 28 dicembre alle 21 la compagnia antidoto porterà in scena Nabrisco la commedia in tre atti di Tiziana Guarneri la regia è affidata a Giancarlo Bella bene termina qui il nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordo che servizi notizie approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it grazie e buon fine settimana a tutti grazie